Abbiamo due volumi, sono tre volumi che ci ha dato la famiglia ai Rodi Colomola, sono tre, una in questa sala e due sono da noi, che sono state gentilmente concesse per far vedere queste opere rare. In più abbiamo anche delle opere, infatti, anche lì, vanno rare, messe in posizione da Fabrizio Alorezzi, che è il nostro direttore della Martinezza, in modo che tutte le persone che possono poi passare a vedere bene le interpretazioni molto rare e importanti. Per cui il percorso che faremo in famiglia è questo, di legato a libri, volumi nostri e di persone che ci hanno concessi, per cui ringrazio ancora il territorio.